Presidente Tui, ben tornato, ben tornato a Milano, ben tornato a Inappiano. Sì, grazie, grazie, è buono di essere qui. Abbiamo visto che è arrivato e è andato subito a complimentarsi con i ragazzi della primavera per la vittoria alla Via Reggio Cup. Sì, credo, è orgoglioso di avere questa CUP. Siamo veramente spero che l'academia continui a crescere come questo. I know che l'anno prossimo, alcuni giocatori si riuscano, alcuni giocatori si riuscano, ma io credo che l'anno prossimo 97 è una squadra buona, quindi spero che abbiamo una squadra forte anche l'anno prossimo. Sì, questo è quello che voglio fare una città con tutti i ragazzi, con i ragazzi, con tutti, per cercare. A stasera, voglio mostrare che c'è un committamento in Inter per credere in l'academia. E, ovviamente, voglio riuscare il sistema in futuro per essere migliore e migliore. Io ho avuto un momento lungo oggi con Interacademia Miami, Interacademia Japan. Sì, voglio assicurare che la città globale sta lavorando. Io ho sento anche che Interacademia Saudi Arabia, i ragazzi, i ragazzi, sono qui. È buono di incontrare loro. Sono i ragazzi nostri spettatori, voglio capire anche quello che possiamo aiutare. E io credo che è importante avere buoni partner locali. E questo è il presente, il futuro. È il presente e il futuro. Ma, a tua parte, c'è qualcosa che mi interessa per vedere in un buon match. Ma, alle spalle, c'è la prima squadra che si sta allenando per preparare la gara contro il Celtic. Io ho sempre credo che Inter sia la top 10 del mondo. Ma, ovviamente, è necessario di essere qui. Io credo, tutti credo, che il coach Mancini, il coach Mancini è un buon leader. Ma, anche, credo che noi stiamo lavorando in un buon team. Abbiamo un buon team. È un buon tempo. Ma, anche, in un buon team, abbiamo ancora scopo di 90 minuti. Ma, spero, i giocatori si crescono, credo per loro che hanno bisogno di essere fokussi. e giocatori di 94 minuti o anche più di 110 minuti o anche di penalti. Ci hanno bisogno di giocatori e di fokussi. Non è solo che si tratta di 2-0, poi si è piaciuto. Questo è il football. Molto che può succedere. Questo è il motivo che il football è diventato il numero uno in il mondo, perché è il drama. E giocatori di 1-0 non significa che non si tratta di giocatori o non si tratta di 2-1 in 88 minuti. Questo è quello che succede con il football. Questo è il fatto che il football è diventato e il drama. Quindi, credo che è importante, ora il team, abbiamo 14 giocatori in Serie A. Ma, ovviamente, è importante che il giocatore di giocatori di giocatori. Questo è il nostro home. Vogliamo vincere, dobbiamo vincere. E stiamo facevamo il nuovo challenge nel 16, nel round 16. Sto aspettando. Aveva visto che San Siro sono tornati i tifosi. Anche questo è un segnale molto importante. Questo è quello che stavo dicendo prima. Vogliamo vincere l'interno di giocatori di giocatori, non solo il presidente, gli giocatori, gli giocatori, gli giocatori, gli giocatori, gli giocatori, gli giocatori. Vincere l'interno di giocatori, gli giocatori, gli giocatori, gli giocatori, gli giocatori. Ma che si trova bene, è importante. Diciamo che San Siro sia il suo lato. Diciamo che 12 persone suonate, gli giocatori, gli giocatori, gli giocatori, gli giocatori, gli giocatori. Guarda i giocatori, 60.000 persone. E' fantastico. Non è perché del negozio, ma perché c'è il compromesso e il supporto di cui dobbiamo lavorare insieme. Dobbiamo mostrare che San Siro è un luogo strano, un luogo strano per l'opera, ma è un luogo strano per noi. E' importante anche per i giocatori dare rispetto ai fanci. La stessa cosa, noi come gestione, io come Presidente, dobbiamo dare rispetto ai fanci, dobbiamo servire ai fanci. Vogliamo fare qualcosa insieme. E i giornali in questa settimana stanno scrivendo che questa settimana potrebbe essere quella decisiva per capire se San Siro sarà in futuro la casa solo dell'Inter. Sì, credo anche senza me qui, io spero che San Siro sia la casa nostra. Non sono io qui, non sono qui. Io credo che Inter sia Inter. Inter è più grande di me. Inter è più grande di tutti. Inter è più grande di tutti. Inter è più grande di tutti. Vedremo. Presidente, grazie. Grazie, grazie. Forza Inter. Forza Inter. Forza Inter. Forza Inter.